Quello che abbiamo assistito invece è che sono diventati il problema e non la soluzione. Perché? Perché anche con questo modo un po' pomposo, come diceva Cassese, di chiamarle, i governatori, questi governatori che pensano di essere quelli che decidono tutto della popolazione di uno Stato, arrivano a decidere, per esempio, che nella loro regione, per non parlare dei sindaci, che arrivano a decidere che nel loro comune il 5G non ci deve essere. Come se il comune, quale che sia, grande o piccolo che sia, ne sappia più di grandi Stati. Quindi è sicuramente una strada per capire se noi siamo in grado di guardare al futuro, di vedere il digitale come una scommessa. Perché secondo me, quando si parla di visione dei governi, delle forze politiche, si usa una parola un po' troppo larga. A me basterebbe che i governi e le forze politiche avessero delle priorità, no? Certo. Cioè, e dicessero, qual è la priorità di questo Stato? Sono due, tre, quattro. Benissimo. Risolviamo questa cosa qui. E non che si mettono tutte quante a fianco e alla fine si fa fatica a capire l'azione di un governo. E' proprio questo il tema, secondo me, del Paese. Noi non riusciamo a far capire chi fa cosa e con quale ordine. E' per questo che io mi richiamo sempre alle imprese private. E secondo me, pane bianco stamattina sul Corriere della Sera ha ragione, quando vede questo statalismo di ritorno. Perché nello Stato ognuno si sente responsabile, ma fino a un certo punto. Mentre invece in un'impresa privata, in un'impresa anche pubblica, non c'è tanto il problema dell'azionista, ma anche in un'impresa pubblica, l'Enel, l'Eni, hanno dei piani che dietro settimana devono rispettare, altrimenti i loro piani industriali non andranno a fondo, altrimenti non faranno quello che devono fare, non offriranno un servizio e via dicendo. Quindi, ecco, sì, la digitalizzazione è una priorità. E' certo che è una priorità. Se però l'amministratore di condominio non fa entrare l'operaio che deve portare il cavo della fibra ottica perché ha deciso che serve un'assemblea, che serve chissà che cosa, allora è inutile che ci parliamo di priorità e di digitalizzazione. In questa compenetrazione, se lo Stato decide che il digitale è una priorità, l'amministratore di condominio, il sindaco, il governatore, fanno il piacere di adeguarsi. Certo, insomma, anche perché poi, insomma, dove si inceppa la macchina, ormai credo a tutti...